In un marassi senza pubblico, stasera va di scena Sampdoria e Juve Stabia. Le vespe di Pagliuca, dopo la bella e convincente vittoria sulla capolista Pisa, sono chiamate ad un'altra prova di forza sul campo dei blucerchiati di Mr. Sottil, che nelle ultime due gare hanno portato a casa sei punti e mostrato segnali di crescita importanti. Su Tirol e Modena, le vittime della Samp, che ha collezionato finora due vittorie, due parigi e due sconfitte, ma che vuole risalire ai piani alti per giocarsi qualcosa di più. Per quanto riguarda i campani, invece, Pagliuca in conferenza stampa ha chiesto come sempre captiveria e determinazione, definendola la sfida tra Davide e Golia. Nel 3-4-1-2 consueto, tra i pali Iptiam, difesa composta da Varnier, Folino e Ruggero, a centrocampo Floriani Mussolini, Leone, Buglio e Rocchetti. Sulla tre quarti dovrebbe agire Maestro, con la coppia formata da Candellone e Adorante in attacco. Diversi gli incroci tra Sampdoria e Juve Stabbia, con calciatori stabbiesi che hanno fatto la storia e maia blucerchiata uno su tutti, Fabio Quagliarella, 102 reti, con la Samp e nativo di Castellammare di Stabbia.